C'è pure Mietta dalle Silla a Milano per gustare la nuova collezione Primavera-Estate di Scarpe Moda, ma è Melissa Satta la più gettonata. L'ex velina, fidanzata felicemente con Bobo Vieri, in barba a chi parla sempre di crisi, è bellissima, con uno stile che fa tendenza. Indossa jeans slim, un maione a V grigio, il giacchino corto in visone sempre grigio, e un paio di décolleté elegantissime e trendy, con plateau beige. Lei fa vedere più volte, sorride, si lascia fotografare e intervistare che è un piacere. Il viso è sereno e fantastico, anche il cappello di lana grigio melange vintage, con tanto di buchi in bella mostra, calzato da lei, diventa very cool. Melissa incanta, gli altri, ammirati, non possono far altro che stare a guardare. Lei è occupata. Lei sia là un piacere. Lei è occupato. Lei è occupata. Lei è occupato. Lei è occupato. tantissimeime